Salve ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Oggi, come permesso, iniziamo la nuova serie, la serie delle London 2012 Olimpiadi. Iniziamo subito questa nuova serie dicendo anche che è comunque una serie che voglio andare avanti, che ha delle buone basi, è sempre molto avvincente, io ci ho già giocato e adesso proviamo a fare una Olimpiade, a simulare una Olimpiade, scenderemo la nostra Italia, giochi olimpici, nuovo percorso, sì, avversario medio d'Italia. Bene, Londra 27 luglio 2012, Olimpiade Park, facciamo anche il commento tecnico. Bene, 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 vediamo che è fatto molto bene anche voi potete vedere la grafica stupenda. Questa è una magnifica città, tantissima view, con le Thames attraverso la distanza, e con tantissimi nuovi luoghi, aspettando per essere testati, questo veramente potrebbe essere la prima. Siamo alla prima giornata, Italia, proveremo a fare il massimo delle medaglie, e andiamo avanti, salto triplo maschile e tiro con l'arco individuale femminile. Facciamo un salto triplo maschile e un bel 200 maschile. Gioca. Dobbiamo superare le fasi di qualificazione perché dobbiamo qualificarci come ovviamente nelle Olimpiadi normali ci si qualifica, perché si arriva dopo alla fase finale e rimarranno solo quelli qualificati. Bene, proseguiamo, salto in alto, salto triplo 9 e i 200 alle 11. Sì, proseguiamo bene. Atletica Campo. Un gioco che mi piace molto, mi piace molto. Molto è una buona attrezza di tipo. Come potete vedere la grafica, e non è neanche al massimo perché l'ho abbassata per il video. Non è al massimo perché se lo mettessi con tutte le ombre e quelle integrate lì. Comandari in corsa, premi più volte, premi più volte, spiace, pop, l e muovi il tasto sinistro e muovi il mouse verso l'alto, verso l'alto e verso la testa. Ok. Bene. Angelo Moretti. Ovviamente tutti... atleti inventati, non è... non sono comigliati giochi sportivi che sono veri, sono tutti inventati. Bene, andiamo avanti. Allora... Italy. Bene. Guardate, siamo pronti per questo salto in... salto in triplo. Via! Ci possiamo fare. Dai. Indice 61. Sì, ma io faccio stra pena in questo gioco. Quanto siamo? Siamo sesti. Ce la possiamo fare a qualificarci. Dobbiamo essere quarte almeno per qualificarci. Indice 61. Abbiamo sei tentativi. Ce la possiamo fare tranquillamente. Dai. Dai bello, dai. Dai. No, merda. Falso. 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 Ah, siamo settimi adesso, ci hanno superato. Dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Muovi. Ah, mentre l'atleta ha toccato il suolo. Se segui il tuo salto in ritardo, dobbiamo mettere in falla. Non so. Dai. Corri. Sì. Ma perchè? Sì. Ma perchè? Ah, siamo ultimi. Siamo superi. Vedete. E che se lo possiamo fare? Quanto abbiamo fatto di me? No. Fallo. E' un buon salto. Ne abbiamo quello di tentativi. Con calma ci la possiamo fare. Dai 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 dai. Salto penoso, però almeno siamo dentro. 12.68. Però non penso sia un salto di che. Dobbiamo fare un bel 16... più di 16.66. Ma se possiamo fare. Il record mondiale è 18 fasi. Eh. Dai. Dai ragazzo. Niente. Non so. Non riesco a saltare. 14.50 ragazzi. Ragazzi. Faccio pena in queste... In queste prove. Va. Ottavo. Non qualificato. Non è una buona performance. E la reazione ti dice. Oh. 8.95. Andiamo ai 200. Subito una brutta... Un brutto inizio per questa giovine Italia. Non si qualifica nella fase finale del salto triplo. Proviamo adesso con i 200. Vediamo se... e questa volta sono i 200m. Caffè. E questo è per gli sprinteri con l'enjuris. Dai. Qua di ammerdare tutti. 19.19. Basta arrivare quarto. Dai. Un secondo. Va bene. Va bene. Va bene. Dai. Oh. Prima. Eh. 20.18 è un tempo... eccezionale. Ragazzi. Un tempo eccezionale. Potremmo... Potremmo qualificarci anche come... campioni olympici. E subito oro, eh. Ma che... Non stiamo... Non è una cosa da più scherzarci. Bene. The more replay. Quanta. Super... Super partenza. Subito. Bruciante. Saltiamo. Saltiamo. Ci siamo qualificati almeno uno. Quindi... Alle otti. Stasera. Fase finale. Vediamo. Cerchiamo noi di prendere un bronzo olympico. Ragazzi. Dobbiamo farcela. Dobbiamo farcela. Assolutamente. Con un 20 e quello che era... Spacchiamo. Tempo eccezionale. Dai 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 dai. Sì. No, 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 no. Il Zane Boy te lo metto. Lo messo io, perché non esiste. Non ci fai su questo piano. Bene! Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Facciamo una storia stasera. Noi, 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 terzo Quarto posto ragazzi, quarto posto, più un pelo Abbiamo fatto anche adesso un buon tempo, mamma mia Quarto posto ragazzi Delusione, delusione per questa Italia che era promettente le qualificazioni Bene dai, andiamo avanti Era una grande partita questa Era un forte, io sono un forte, dai, va bene dai Quarto posto Per una trentina di centesima, dai Andiamo avanti io stesso, chiamolo la trelle delle medaglie Siamo settimi Non vi è nessuna medaglia, andiamo avanti, noi ce la faremo Noi ce la faremo Noi ce la faremo Andiamo avanti dai Tiro con l'arco individuale, cento metri, no? Sì, tiro con l'arco di spira Trampolino elastico, no? Kaylin, Kaylin, Kaylin Ovvero le... le BC Bene, round di qualificazione, avanti Voglio qualificarmi e prendere almeno un punto di do qualificazione e uno medaglio Qua ragazzi devono essere fiscali North Cricket Drive Fiscali, dobbiamo prendere Sono una board fiscale Dai Dai, ragazzi Dai, aggielo, aggielo, aggielo Direzione del vento Fiscali 10 punti Guardatela quella maestria precisione all'arroo Arroo numero 2 Perchè mi ricordasse il telefilmaro 8 punti, va bene, va bene, cerchiamo di star nel rosso Vai Dai Dai 9 punti, 9 punti 18-9 Ottimo 27, siamo primi Siamo primi Abbiamo 4 round Va bene Va bene Dai La qualificazione almeno dobbiamo riuscire a farla Madonna Va bene Va bene È solo il pubblico 3 punti Perchè la direzione del vento continua a cambiare 5 punti, madonna No, 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 ragazzi Stiamo andando male 7 punti, madonna 3-5-7, brutta brutta qua Quanto siamo? Siamo quarti Però sei sempre in qualificazione Dai 9 punti, 9 punti Bene, bene Non Non prendiamoci male Andiamo in direzione del vento 5 Dai 8 punti Va bene 8 punti Va bene Va bene Va bene Non superiamo gli 8 10 punti 10 punti 9-8-10 come prima Bene, ragazzi Siamo Siamo Terzi Siamo terzi Siamo a Meno Meno 2 dal secondo Dai Ci possiamo fare Comunque siamo già qualificati L'importante è star così Non scendere Non pergiorare La blu 6 punti Ragazzi 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 Voglio 5 Dai Madonna Questa 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 qua va male 6 Vai Ancora 6 punti 18 6 6 6 6 6 Non va bene Non va bene 9 primato individuale Abbiamo avuto il gioco 87 Quarto posto Siamo per un periodo liquidati Va bene Va bene Tanto siamo sopra di 3 Bene Andiamo alla Kayrin Qualifichiamoci anche lì Cicchismo pista E' quello su pista Quello Straveloce Qua Do merda Qua Do merda Si già Paolo Esposito Dai Voglio Dai Ce possiamo fare Guardate Mi ha finito il tubo Dai 500 metri 500 metri 500 metri 150 metri Che adesso siamo praticati Ma voglio una praticazione più alta Ultimo giro Ultimo giro Ultimo giro Guardatelo come prendeci il video Questa è la prima di subito Secondo Secondo Va bene Va bene Va bene Va bene Non mi importa Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Qualificati Ragazzi quanto sta bene ci siamo qualificati Ragazzi comunque Buon testo Bene Bene Andiamo a prenderci due medaglie Dove ci siamo qualificati Dai ragazzi Dai Dai rega Dai rega Ce la dobbiamo fare Ce la dobbiamo fare assolutamente Perché questa qua è una cosa imprescindibile Bene Angelo Ballad Angelo Ballad Angelo Ballad Ah Un basso Un basso Bene Bene Dai Concentrazione E proviamo 8 punti Ottimo Dai 8 punti Va bene Va bene Dobbiamo cercare di prendere l'oro Almeno il bronze Dai Sette punti Sette punti Va bene Sette punti Dai Va bene Siamo secondi Siamo secondi Siamo secondi Adesso ce ne vediamo Dai Direzione alberta 8 punti Va bene Cerchiamo di andare più verso l'eccellenza Dai Dai Sette punti Sette punti Sette punti Va bene Sette punti Va bene Poteva andare peggio 8-7-7 Siamo Siamo terzi Siamo su un bronze Sette punti Dai Si Eh Dai 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 9 Va bene 9 Perfetto quale aggiungerebbe questo atlete per l'arrow numero 2? 8! Perfetto! Non scendiamo, c'è finito di scendere sotto gli 8! Dai voglio un 10, dammi un 10 baby, dammi un 10! 9 dai, 9 dai! Siamo terzi dai, dobbiamo recuperare, siamo a meno 5 dal primo e a meno 3 dal secondo! Questo qua è il turno finale ragazzi, qua ci si gioca tutto! 9 punti, va bene, va bene ragazzi, va bene, 9 punti! Penultima! 9 punti, dai dai dai, un 10! Dammi un 10, dammi un 10! Ultima freccia, può essere una freccia da argento! 9 punti, 9 punti, 9 punti! 27, vediamo cosa mi dà, dammi un cobi! Dai dai dai, un 10! Secondo posto, argento! Argento olimpico ragazzi! Argento olimpico! Argento olimpico ragazzi! L'Italia subito si fa vedere nel tiro con l'arco! 99-103! E siamo sopra di uno alla Cina! Bene ragazzi! Mi stop! Abbiamo preso un grandissimo, un grandissimo bronzo! Eccoci, eccoci lì! Un bellissimo argento! Bene, saltiamo, andiamo a fare la Kirin! Devo prenderci neanche una medaglia! Bastardi! Andiamo lì a prenderci una medaglia! Dai! Voglio carichi! Una bellissima medaglia! Cerchiamo di prendere ancora un argento, se ci va bene! Ma comunque, un brunzo è sempre un bel! Non c'è da buttar via! Meglio che niente! Dai 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 dai! Ha un esposito! Ok Addedizione! Soppa nelle casse! Stasera si fa la storia! Si fa la storia! Stasera si fa la storia! Questa si fa la storia! Dai! Due giri ancora? Siamo prigli. ultimo giro ultimo giro siamo primi facciamoci superare vai 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 si oro oro olimpico oro olimpico ci siamo 42 58 ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo l'Italia c'è l'Italia c'è l'Italia c'è l'Italia c'è 42 57 42 64 42 72 ce li avevamo dietro proprio attaccati al sedere un argento un oro olimpico nella prima giornata nella seconda giornata grande momento grande giornata per l'Italia che si è fatta subito vedere in lo nazionale in lo nazionale qua ci sta tutto ci sta tutto guardatelo l'oro come brilla guardate questo oro che emozioni che emozioni guardatelo guardatelo un'emozione primi davanti a tutto sul tetto del mondo sul tetto del mondo bene bene medaglia d'argento e medaglia d'oro ragazzi non sapete cosa vuol dire cioè facciamo un medagliere siamo siamo primi siamo primi perché medaglia d'argento vale più di due bronzi come la città e quindi siamo primi siamo primi ragazzi adesso nel prossimo episodio faremo la terza giornata ce li vedremo tra queste tra queste gare vediamo subito un gran cento maschile un piattello tiro a piattello va bene dai ragazzi per questo video per questa puntata è finito spero vi piace seguite commentate iscrivetevi pollicione su mi raccomando per le due medaglie e niente al prossimo episodio state sempre su street tack ciao 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 ciao